Musica E' cominciata una settimana importante per l'amministrazione comunale, cruciale. Oggi pomeriggio riunione di maggioranza, un appuntamento dal quale il sindaco. Cosa si aspetta? Di discutere, di confrontarsi, che devo aspettare? Che devo aspettare? Un disgelo anche? Ma io non sono stato congelato con nessuno. Io non sono congelato con nessuno, non ho motivi di dissenso con chi che sia. Io ho la mia coscienza, tranquillissima, perché faccio il mio dovere dalla mattina alla sera, tutti i santi giorni che ci manda il Signore. Tra dieci giorni ci sarà la prova del bilancio, pensa di superarla? Dieci giorni il bilancio, scordatevelo, non ci sta. No, non c'è prorogano e neve, insomma ci sono atti preparatori ancora da fare. Foti ha ribadito che non intende ricandidarsi, aggiungendo, voglio tranquillizzare alcuni personaggetti. Non mi ricandido perché era questo l'impegno assunto con i cittadini in campagna elettorale. È sempre per rispetto degli avellinesi e deciso ad andare avanti fino alla fine, nella convinzione di chi sta svolgendo il suo ruolo con serietà ed onestà. Non si pende di essersi candidato, anche se a volte ha aggiunto emotivamente cedo. Ci sono dei momenti in cui, come dire, emotivamente hai dei cedimenti e me ne rammarico, qualche cedimento l'ho avuto qualche giorno fa, però che il cedimento di una persona, non del sindaco di Avellino, venga poi strumentalizzato è una cosa veramente riprovevole. riprovevole, venga strumentalizzato da qualche personaggetto vigliacchetto e venga reso pubblico dal destinatario della invettiva che il sindaco, sbagliando, ha fatto. Sindaco, allora, lei mi provoca il caso di dire, secondo lei non è il caso, almeno stamattina, dopo pure se sono passati in tanti giorni, fare le scusi al collega? Ho detto che ho sbagliato, poiché ritenevo, sbagliando, di avere una sorta di contraddittorio in privato con la persona, ho usato dei termini sbagliati, inappropriati, se avessi saputo che stava comunque conducendo l'intervista avrei detto che non intendevo rispondere, è chiaro? quindi io ho sbagliato, ritengo di non aver sbagliato solo io, ho sbagliato solo io, bene, va bene così, ho sbagliato solo io, chiedo scusa alla città, del linguaggio inappropriato.